A tutti ben ritrovati per il nostro settimanale appuntamento con voce e parola, cura dell'ufficio comunicazioni sociali, la voce dei Berici e Radio Oreb. In primo piano le missioni, ma soprattutto lo spirito missionario che pare essere molto cambiato rispetto al passato. Missioni che stanno particolarmente a cuore anche al Vescovo Giuliano che è stato in visita alla missione in Thailandia del Triveneto e a molti giovani vicentini che sono partiti o sono in partenza per le missioni seguite dalla Diocesi. Come dicevamo uno spirito missionario cambiato, infatti rispetto al passato certo c'è sempre la volontà di portare aiuto e solidarietà ai paesi più in difficoltà, ma anche un bisogno e una necessità di ritrovare se stessi e soprattutto di vivere nuove relazioni che evidentemente qui non ci sono più o si sono fatte molto più superficiali in famiglia così come con gli amici. E allora al Festival di Pastorale Giovanile noi avevamo sentito proprio chi ha seguito i giovani prima della partenza. Carlos si occupa per Missio Giovani della preparazione dei ragazzi in partenza, fai parte dell'equipe, ecco ma oggi magari anche rispetto al passato come si può preparare un giovane ad affrontare questi paesi, questo mondo forse più complesso. Certo, c'è una differenza tra il passato e oggi, mentre che nel passato quando Missio Giovani si chiamava insieme per la missione, era il nome che aveva un po' prima, la differenza per poter capire quali sono i desideri e anche i bisogni tra una generazione e l'altra è che prima nel passato quando i ragazzi partivano il desiderio più che altro era quello di non lo so, andiamo a fare qualcosa, andiamo ad aiutare, andiamo a servire magari in situazioni dove c'è ancora più difficoltà, più povertà e questa era la motivazione principale, quello che spingeva di più i ragazzi andare a un altro mondo, andare a altri contesti eccetera. Oggi la cosa è molto interessante perché oggi non si centra tanto su quello, c'è, però non è la motivazione principale, la motivazione principale oggi è andare a trovare l'altro, l'altro che è totalmente diverso da me e andare a stabilire, a creare relazioni nuove però in contesti culturali e linguistici totalmente diversi da quelli in cui si muovono oggi i giovani. Magari questo risponde al desiderio e anche al bisogno di uscire dalla zona comfort, di uscire a certi meccanismi dove le relazioni hanno un sapore più strumentale, più utilitario, dove le relazioni magari sì di amicizia saranno poche e allora questo desiderio di novità di trovarsi anche a se stessi soprattutto attraverso la relazione di un altro per un altro totalmente diverso da me, penso che sia una cosa fondamentale che oggi i giovani è una delle cose che più spingono andare oltre, poi anche un desiderio di ricerca di se stessi, chi sono io, che orizzonte si presenta di fronte a me, tutte queste domande allora per loro dicono è meglio andare oltre altrove perché magari in questo contesto qui, il lavoro, lo studio, le preoccupazioni di ogni giorno possono... Prendono difficile trovare se stessi e anche gli spazi ecco, o magari hanno già delle risposte già fatte prefabricate o anzi c'è un sopraccarico di offerte, uno dice no tu sei questo, un altro dice no tu sei qua, tu sei qua, allora tutto questo bombardamento, ma in un contesto dove magari le cose sono più semplici, le cose sono più leggere, nel senso non superficiale, ma più realistico, più sulla terra, tante... Cercono essenzialità. E quindi noi formiamo che è molto diverso a quelli del passato, dove lo scopo era diverso, sì sì era molto diverso, era più volontariato, più andiamo a una questione di servizio. La missione dunque oggi si vive in modo diverso, ma si continua a partire, ma verso dove? Lo scopriremo dopo il commento al Vangelo della Domenica, sempre così attuale nell'affrontare qualsiasi missione. Bentornati a questo nuovo incontro di ascolto della parola nella ventunesima domenica del tempo ordinario. Come vedete siamo immersi nel meraviglioso parco di Villa San Carlo e sotto al maestoso cedro che da centinaia di anni offre la sua presenza silenziosa. Da qui ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici Volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Domenica scorsa abbiamo sentito queste parole pronunciate da Gesù Io sono il pane della vita, il pane disceso dal cielo, il pane che è la mia carne per la vita del mondo. E abbiamo detto che sono parole che chiedono, che invitano ad accogliere il mistero che lui è. Ma nello stesso tempo sono parole che ci invitano a scoprirci abitati da una fame che solo Gesù può saziare. E oggi sentiamo la reazione dei discepoli a questo discorso del pane. Questa parola è dura. La prima reazione che vediamo negli interlocutori di Gesù è una fatica. E poi vediamo lungo il brano che questa fatica diventa una resistenza. Cioè sembrano non solo non capire appieno il senso delle parole di Gesù E in questo penso che tutti noi ci possiamo identificare Ma fanno fatica ad accettare le conseguenze di queste parole Le conseguenze di questo invito E' come se qui si giocasse il nostro rapporto con Dio In queste parole che Gesù dice si rivela la nostra fede Cioè il pane è un dono che riceviamo da Dio con gratuità Però questo ci crea disagio Dobbiamo ammettere una precedenza e un'eccedenza d'amore E questo facciamo fatica ad accettarlo Chi ascolta Gesù nesce spiazzato, risentito, sdegnato Eppure non lo manifesta apertamente Gesù sembra invitarci a immergerci nel rapporto con Lui Ma senza possederlo Ad accoglierlo con uno sguardo che va oltre Che va nel profondo Che non capisce tutto Che appunto sa accogliere una precedenza, una dipendenza Una relazione Sulla quale noi non possiamo mettere le nostre mani Così avide di libertà assoluta La liturgia per un'altra domenica consecutiva Ci invita a pregare il Salmo 33 Ripetendo lo stesso ritornello di domenica scorsa Gustate e vedete come è buono il Signore E anche domenica dicevamo che c'è un ascoltare Che apre ad un vedere È nel gustare che io vedo È nell'entrare sempre più profondamente Sempre più vitalmente Nella relazione con il Signore Che io lo riconosco per quello che Lui è E Gesù di fronte alla reazione dei discepoli E lui risponde con due domande Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire da dove è venuto? È come se Gesù rincarasse la dose Dicendo che quel dono preparato Che è il pane Che è Gesù stesso Non è solo l'uomo di Nazareth che loro conoscono È Dio stesso il Maestro È Dio che si fa dono per nutrire la nostra vita E ci possiamo far aiutare dall'icona dell'ascensione Che cattura quel momento a cui Gesù allude Quando sale là dove è venuto E così si compie il mistero pasquale Il crocefisso risorto ritorna al Padre E lo facciamo per due motivi Innanzitutto perché l'icona fa vedere in modo eloquente La conseguenza Gli effetti sulla vita di tutti noi Sulla storia Di questo salire al cielo di Gesù Vediamo infatti nell'icona Che raggi di luce partono dalla sua persona Che sta al centro dell'icona E arrivano e si spargono In tutto lo spazio dell'icona Raggi che alludono allo Spirito di Dio All'amore del Padre che raggiunge tutto e tutti Con l'ascensione Dio è diventato Padre mio e Padre vostro L'icona ci fa vedere stranamente la nostra reazione E questo è l'altro motivo Noi siamo abituati a vedere nell'icona un linguaggio simbolico Non emotivo Teologico Non affettivo E invece l'icona dell'ascensione Ci fa vedere chiaramente i sentimenti degli Apostoli Ci fa vedere i movimenti del loro cuore Attraverso i movimenti scomposti del loro corpo Veramente c'è stupore Incomprensione E anche paura Appunto Scandalo E Gesù continua La carne non giova a nulla Qui Gesù sembra volerci dire Che la fede L'ascolto della sua parola È questione di ascolto dello Spirito È lo Spirito che dà la vita Siamo allora invitati a chiedere lo Spirito Ad imparare ad ascoltare lo Spirito che porta la vita di Dio sulla terra E Gesù dice Ma tra voi alcuni non credono Gesù ci dice che noi non crediamo a questo dinamismo dello Spirito che nutre la vita di Dio Eppure la realtà è piena di questo dinamismo per chi lo sa cogliere Non è qualcosa di oscuro ed impenetrabile È qualcosa che bisogna frequentare perché si dispieghi Un po' come quando si entra in una stanza buia che dapprima non vediamo nulla Ma poi piano piano iniziamo a distinguere gli oggetti presenti Le cose della vita funzionano così E a queste parole Prima i lontani e poi quelli più vicini a Gesù I suoi discepoli, i suoi amici lo abbandonano Il capitolo 6 si apre con folle che cercano Gesù per il pane Si conclude con folle che abbandonano Gesù Allora sarà Pietro ad aprirci una via di fede possibile in questa situazione di fatica Pietro che frequentando Gesù Gusta e vede Gusta la presenza di Gesù Si immerge nelle sue parole E riesce a intravedere il mistero E a riconoscere qualcosa in lui di realmente nuovo Di realmente capace di fare la differenza Qualcosa che quando lo scopri Non puoi più farne a meno E a cui non puoi non tornare ogni volta che ti perdi Dice Pietro Tu hai parole di vita Più che eterna dell'eterno Quelle parole che quando ti raggiungono Le percepisci come luce nel buio Acqua nella sete Pronunciate proprio per te Che avevi bisogno di ascoltarle Parole che gustate interiormente Riaprono la vita E allora grazie Pietro Che come gli israeliti della prima lettura Ci sei maestro nel restare Fiducioso di ciò che già il Signore Il Santo di Dio ti ha fatto gustare Grazie perché così lo spirito può dispiegarsi Attraverso di noi nella storia Che attende la sua parola Buona Domenica Ben ritrovati dopo aver sentito le ragioni Che spingono oggi i giovani a partire per la missione Sentiamo quanti sono e dove vanno Quest'anno il percorso è stata una quarantina dei ragazzi Che lo hanno fatto Anche quelli che partiranno sono in 35 Però in ogni modo un bel numero Una bella percentuale Di quelli che partiranno a fare l'esperienza di missione Durante l'estate Sono nuove le destinazioni Dove i ragazzi andranno a fare l'esperienza Dalla Tailandia al Kenya Dalla Kenya al Brasile Guatemala Cioè tutto il mondo Avere il mondo come casa Dove i ragazzi faranno un'esperienza di un mese Chi farà ancora di più Chi farà un po' di meno Anche in Romania e in Albania Però quest'anno anche si parte Se quei ragazzi partono Dunque l'abbiamo sentito Anche se con nuove motivazioni I ragazzi continuano a partire Alla ricerca di un mondo come casa Grazie per averci seguito Arrivederci alla prossima settimana